Manchester City PSG Paris Saint Germain termina con un 2 a 0 dove proprio il Manchester con quel 2 va a vincere contro il Paris Saint Germain e questo è il risultato di questa partita di ieri 4 maggio 2021 di Champions League vi ricordo che è stata una semifinale ovviamente il Manchester dunque batte il PSG a segnare i due gol e entrambi i gol è stato solo calciatore ossia il buon Riyad Mahrez un gol è stato al primo tempo precisamente all'undicesimo minuto di gioco il secondo gol invece al secondo tempo precisamente al sessantatresimo minuto di gioco che partita è stata? una partita davvero straordinaria e bella da vedere quindi dove il Manchester ha veramente impiegato tutte le sue forze riuscendo a sconfiggere il PSG in maniera garbata in maniera davvero piacevole e soprattutto utilizzando tutte quelle che sono le proprie doti atletiche barra fisiche di cui effettivamente parlando dispone complimenti dunque al Manchester City giù di tono secondo me il PSG ma comunque è stata lo stesso una bella nonché gradevole partita di calcio iscrivetevi al canale il narratore italiano mi raccomando ci tengo la vostra iscrizione fatemi sapere cosa ne pensate ci vediamo al prossimo video una buona giornata a voi grazie a tutti Grazie a tutti.